Gentili telespettatori, buona giornata. E così il professore politologo Ernesto Galli della Loggia in un'intervista dice chiaramente che il grande centro con Forza Italia e PD non esiste. Quell'unione non avrebbe i numeri e sarebbe tacciata di clamoroso trasformismo. Meloni dovrebbe spostarsi verso gli azzurri, allontanandosi dalla destra estrema salviniana. Si vede allo Iuscole, in passato da quel partito ci sono state aperture, mai dalla Lega, ai Meloniani non ripugna. E così Iuscole e sovraffollamento delle carceri sono i temi che animano il dibattito politico in questo spicchio d'estate. Perché Forza Italia, l'ex partito di per esempio Eleo Vito che si chiede rimane al governo Collega e Fratelli d'Italia, ingabbiato in un centrodestra che la umilia ed è lontano dai suoi valori? Mattia Feltri ha risposto che lo strappo dissiperebbe il progetto e l'eredità di Silvio Berlusconi, che non sono tanto il partito quanto una coalizione alternativa alla sinistra che tenga dentro moderati ed estremisti. Allora, naturalmente se Forza Italia dovesse mandare a quel paese Lega e Fratelli d'Italia per spostarsi verso un centro, non a sinistra ma verso un centro, cancellerebbe il progetto di Silvio Berlusconi, perché Silvio Berlusconi ha inventato il centrodestra. E quindi sarebbe dopo poco dalla scomparsa già la fine del bipolarismo e della creatura fatta proprio da Silvio Berlusconi. Quindi c'è un primo problema proprio di ricordo per quello che il fondatore aveva creato, quindi cancellare quello che il fondatore aveva creato, perché un'uscita di Forza Italia dal centrodestra, lasciando lì Meloni, Salvini e forse Vannacci con un suo partito, questo vorrebbe dire che quello che rimane del centrodestra difficilmente riuscirebbe a governare un'altra volta, proprio per mancanza di numeri. Quindi lo strappo dissiperebbe il progetto e l'eredità politica di Silvio Berlusconi. Ernesto Galli della Loggia, persona molto stimata nell'ambito delle opinioni politiche, scrive sul Corriere della Sera, spesso la Meloni ha risposto a dei suoi articoli, dice che Meloni dovrebbe spostarsi verso gli azzurri, non verso Salvini, perché Ernesto della Loggia dice che ormai la Lega è un partito di estrema destra, ormai è lì, è nell'estrema destra, non è un partito di destra ma di estrema destra, e la Meloni dovrebbe spostarsi sulla linea di Forza Italia, anche perché, dice Ernesto della Loggia, guardate che la Meloni e il suo partito erano d'accordo sull'Ujuscole. È vero, certo che è vero. Nel 2014 la Meloni scriveva un post dicendo che bisognava fare l'Ujuscole. Poi nel 2022, quando l'Ujuscole l'aveva proposto il Movimento 5 Stelle, il partito di Giorgia Meloni all'opposizione, parliamo di 2022, poco prima del governo Meloni, Fratelli d'Italia aveva proposto una modifica alla legge dei 5 Stelle sull'Ujuscole, dicendo che sarebbe meglio farlo in questo modo. Quindi Fratelli d'Italia non era contro l'Ujuscole, addirittura convergeva sulle posizioni del Movimento 5 Stelle, addirittura proponeva dei consigli per fare meglio la legge. Quindi Ernesto Galli della Loggia dice che la Meloni non dovrebbe seguire Salvini, dovrebbe seguire Forza Italia verso il centro. Cosa potrebbe comportare questo? Salvini che ha l'8%, più si sposta verso destra, più perde voti. Un partito di estrema destra, come quello che sta costruendo Salvini con Vannacci, potrebbe avere un 3%, 4%, 3-4%, tra il 3 e il 4%. Quel 5% che oggi nella Lega potrebbe spostarsi in Fratelli d'Italia o in Forza Italia. Però vorrebbe dire perdere un alleato, vorrebbe dire perdere il 3-4%, non sapendo se quello spostarsi verso il centro con Forza Italia possa portare anche dei voti in arrivo da Calenda, da Renzi, dal Movimento 5 Stelle o dal famoso astensionismo. Quell'enorme bacino di elettori che non vota, quel 50% che non va alle elezioni. Quindi oggi, più che andare a prendere voti agli avversari, andare a prendere voti a Calenda, a Renzi, al PD, ai 5 Stelle, oggi i voti si vanno a prendere nell'astensionismo. Cioè la persona che si astiene è una persona che dice «mi hanno deluso tutti, se un giorno uno dirà qualcosa che mi interessa magari lo voto, o se prende delle posizioni diverse magari lo voto». Quindi ovviamente più ci si avvicina al centro, più elettori ci sono. E la piramide dell'elettorato è questa. Più vai all'esterno, meno ce ne sono. Più vai verso l'interno, il centro, più elettori ci sono. E più astenuti ci sono di centro. Quindi oggi, che c'è o non c'è un centro, andando verso quell'area politica si prendono voti. Naturalmente la Meloni sarà nel dubbio. Lascio la Lega con Salvini e il capitano Evannacci alla deriva. E io mi sposto al centro, sperando di prendere più voti. Però, mentre tu speri di prendere più voti, in Parlamento ci sono dei numeri. Ecco. Quindi lo spostarti al centro lo puoi fare raccontando una nuova narrazione, ma devi continuare a governare con Salvini. Perché se togli Salvini in questo momento non hai i numeri. Non hai i numeri per poter governare. Quindi oggi la Meloni non si può spostare con Forza Italia verso il centro, escludendo Salvini, perché se no non hai i voti per governare. Quindi dovrebbe spostarsi al centro, però continuando a governare con Salvini. E spostarsi al centro, votando lo Juscole con Forza Italia e l'opposizione, provocherebbe uno scontro con la Lega e magari la fine del governo. Quindi, anche se la Meloni oggi volesse spostarsi verso il centro, non sarebbe facile, perché deve comunque avere a che fare tutti i giorni con Salvini, che ha oggi delle posizioni di estrema destra. Quindi lui non dirà mai sì a una cittadinanza concessa in maniera più veloce. Questo è il punto. Quindi la Meloni è in mezzo tra un Salvini e un Forza Italia che si sposta verso il centro, dove ci sono più elettori. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.